Radio 105 e 30 secondi e saranno le 21 Buonasera, buonasera amici Benvenuti a 105 Night Express Con noi Rebecca Staferi e Alessandro Sansone Ciao Ale Ciao Rebecca, buonasera a tutti, buonasera amici Benvenuti 24 di gennaio Ben trovati allo show che vi accompagna Con grande ilarità Tutte le sere Dalle 21 alle 23 Sentito come ho sottolineato, ilarità Ilarità, importantissimo caro il mio Ale Come stai? Bene, bene, bene Qui è arrivata l'estate Praticamente io sono uscito bardato Con cappello, guanti, sciarpa Invece adesso posso stare in maglietta Ma che meraviglia, ma cos'è successo? Comunque anche a Roma, eh? Ieri si congelava, oggi 20 gradi Cioè, una meraviglia Lo dicevano, lo dicevano che sarebbe arrivato un caldo anomalo Adesso sto scherzando del fatto che si possa andare in maglietta Però ho trovato, forse anche perché mi sono mosso in bici oggi, tutto il giorno Essendoci uno sciopero della mobilità pubblica E il trasporto E il trasporto